Torna all'IRTEF sulla prima casa. La manovra finanziaria provata qualche giorno fa contiene infatti la riduzione delle agevolazioni. Non si potrà più cioè dedurre dal reddito imponibile la rendita catastale della propria abitazione, se prima casa. I tagli arriveranno in due tranche. Nel 2013 il 5% in meno, l'anno dopo il 20% in meno. Ce ne sarà per tutti, per chi possiede la casa in cui abita, per chi dà in affitto il proprio immobile, per chi fa lavori di ristrutturazione e infine per gli stessi inquilini. Ma procediamo con ordine. Oltre al ritorno dell'IRTEF sulla prima casa, a partire dai redditi 2013 e 2014, i proprietari subiranno tagli alle agevolazioni, a cominciare da quelle fiscali per l'acquisto della prima casa. Ma sarà ridotta anche la detrazione IRPEF per gli interessi passivi sui mutui prima casa, 19% su un tetto massimo di spesa di 4.000 euro annui. Limitata infine la detrazione IRPEF per le provvigioni pagate ai mediatori immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. Per i proprietari che affittano l'immobile, la novità fiscale del 2011 è l'acedolare secca sugli affitti, che da quest'anno prevede un'imposta unica del 21% sugli affitti relativi ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, 19% per i contratti agevolati. Ebbene, con il taglio alle agevolazioni l'acedolare salirà a regime dal 21% al 25,2%. Anche le detrazioni fiscali previste per gli inquilini a sostegno del costo dell'affitto di casa saranno investite dal taglio del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014. A rischio anche le detrazioni per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro. I tagli lineari introdotti non peseranno solo sul futuro delle abitazioni, anche gli assegni familiari saranno colpiti a partire dal 2013. Ad essere sotto accusa è soprattutto la logica dei tagli lineari introdotto dalla finanziaria, che peserà soprattutto sulle famiglie meno abbienti, mentre sarà più leggera per le fasce di popolazione con reddito medio-alto. Un argomento questo che non mancherà di sollevare osservazioni e polemiche. Grazie. Grazie.